che da queste immagini capiamo che la maleducazione non va mai in vacanza. Caffonauti a parte, dobbiamo registrare un nuovo atto vandalico al nostro patrimonio artistico. La terza volta nel giro di un mese il Colosseo ne porta ancora una volta le ferite. Una turista ha cercato di portare a casa un piccolo frammento. Ma come mai? Alla nostra conversazione di prima animata da Fabrizio Roncone e Gabriel Zuttrichel si aggiunge Francesco Rutelli. Buongiorno Francesco, nel Pantheon dei sindaci di Roma tra i più amati, ex ministro per i beni e le attività culturali, adesso presidente dell'Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali. Francesco, cosa ne pensi di quello che sta accadendo? Diciamo che il turismo di massa porta dei comportamenti imbecilli. Non dobbiamo dargli una pubblicità eccessiva perché c'è anche il rischio dell'emulazione, perché gli imbecilli sono un buon esercito. Non guardiamo solo questo, naturalmente. È chiaro che attorno al Colosseo c'è molto degrado, purtroppo ci sono saltafila, venditori abusivi. Ecco, forse dovremmo tutti impegnarci per migliorare il contesto perché l'emulazione positiva talvolta aiuta. La cosa divertente, se posso usare questa brutta parola, è che il primo caso del danneggiamento è stato accompagnato dalla persona che l'ha fatto, che ha detto non sapevo che era così antico. Colosseo, non so, qualcuno di voi ricorderà la deliziosa Virnalisi nello spot di Marcello Marchesi, di un dentifricio che diceva «Ho detto qualcosa che non va?» Ecco, forse qualcuno gli dovrebbe dire che... E la risposta lì era «con quella bocca può dire ciò che vuole a Virnalisi». Ma in questo caso qualcuno dovrebbe dire in famiglia questo. Ecco, l'altra fanciulla che scrive e che deturpa ha detto «Ma alla fine cosa ho fatto di male?» Vedete, il Colosseo è così grande. Ecco, non c'è dubbio c'è un atteggiamento di irresponsabilità a cui dovrebbero sopperire le guide, che fanno già un enorme lavoro, i controlli, le istituzioni, e però anche il dire da parte dei loro amici quando questi idioti pubblicano le loro bravate sui social, ecco, la risposta corale potrebbe essere quella che comincia con la V. Non la voglio dire sul Rai 1, però. Sì, non è la V divisito, Orsa. Fabrizio Roncone, vuoi aggiungere qualcosa? È un problema di mancanza di educazione civica. Poi la storia del Colosseo, tu ci hai scritto anche a lungo. Guarda, io mentre sentivo le parole di Francesco Rutelli ripensavo alle due pagine che pubblicammo sul Corriere della Sera due anni fa. Erano due pagine di denuncia, di gravissima denuncia, su quello che succede intorno al Colosseo. Il Colosseo è una landa desolata, raccontando ciò che vedemmo, abbandonata a se stessa, preda di abusivi, di qualsiasi tipo, infestata da dei ceffi che travestiti da centurioni, taccheggiano i turisti, borseggiatori. Oggettivamente un disastro. Ci colpì moltissimo che dopo due pagine pubblicate sul Corriere della Sera, il giorno dopo non ricevemmo una risposta. Ma una risposta. Poteva anche essere una smentita, impossibile e improbabile, ma non ricevemmo nulla. Ci fu il silenzio totale. Allora il silenzio totale era assegnazione. Allora quando è successo che questi imbecilli si sono messi a disegnare la propria firma sul muro del Colosseo, io non sono rimasto molto stupito, ti confesso. Mi è sembrata la logica conseguenza di un luogo abbandonato. Francesco, quali misure, come sindaco ma anche come ministro, la tua lunga esperienza, quali possono essere delle misure che aiutano a preservare il Colosseo? Perché non è una situazione piacevole. Colosseo come tante altre strutture. Innanzitutto la collaborazione degli accompagnatori delle guide turistiche che segnalino i comportamenti scorretti. Ha assolutamente ragione Roncone. C'è da troppo tempo una tolleranza verso un'attività illecita, sistematica, che viene svolta da persone che non dovrebbero stare lì. E queste persone non possono stare lì. Cioè, chi fa la truffa coloro che vogliono comprare un biglietto? Coloro che fanno guide turistiche non autorizzate, farlocche. Coloro che vendono materiali non autorizzati. Intanto danneggiano quelli che lavorano. Le guide regolari, i venditori regolari, le strutture all'interno delle nostre aree. Poi qui stiamo parlando di un'area archeologica immensa. Favoriamo anche, l'utilizzo con le telecamere, l'individuazione di questi comportamenti e sanzioni rapide, esemplari. Se sono stranieri, ugualmente. E li inseguiamo anche a casa loro e gli imponiamo delle sanzioni dopo comportamenti illeciti. Pompei, direttore Zug Triegel, l'ultimo episodio di sfregio a Pompei risale al 2015. Poi avete risolto. Come? Sicuramente la rigidità, zero tolleranza. Abbiamo una sorveglianza. Abbiamo i carabinieri qua con un posto fisso. Denunciamo ogni episodio. Abbiamo il personale di vigilanza, più di 500 telecamere. Ma credo che quello che ha detto Francesco Rutelli è molto importante. Bisogna anche lavorare con il contesto esterno. Perché giustamente per i turisti è tutta un'unica esperienza. Quindi se arrivi e fuori c'è già un ambiente, un contesto, un'atmosfera, poi te la porti anche dentro mentalmente. Dunque noi siamo molto contenti. Abbiamo un buon dialogo con l'amministrazione comunale, con tutti gli enti. Questo è importante. Credo possa essere anche una svolta per la situazione del Colosseo, che è molto complicata, perché siamo al centro della capitale e quindi è relativamente paragonabile a quello che vediamo a Pompei. Allora, Francesco, non abbiamo molto tempo, però una considerazione, mi appello alla tua sintesi. Qualcuno ha scritto che le condizioni in cui versa la capitale influenzino il comportamento dei turisti, perché pur condannando come ignorante e maleducato chiunque rovini un monumento, il ragionamento è se la città è sporca è difficile pretenderne il rispetto. La città deve essere più pulita e su questo roncone ha fatto articoli e inchieste sacrosanti. E non c'è però un alibi che può scaturire da questo, tantomeno nei confronti del patrimonio. Siccome tu mi chiedi brevità, io ti ringrazio, voglio farvi vedere queste due immagini. Vi prego, date un'occhiata a questo, perché questi sono i temi drammatici con cui si misuriamo. Allora, questa è la distruzione del Museo di Palmira dall'ISIS, il terrorismo. Noi stiamo difendendo il nostro patrimonio, ma abbiamo conosciuto degli episodi catastrofici. Questi busti che avete visto distrutti sono stati restaurati grazie alla nostra iniziativa di volontariato dell'Associazione Incontro di Civiltà dall'Istituto Centrale del Restauro. Questi due busti sono andati e sono tornati nel Museo di Damasco perfettamente restaurati grazie alla bravura dei tecnici italiani. Abbiamo i più bravi restauratori, abbiamo i più bravi conservatori, abbiamo i più bravi divulgatori, abbiamo bene il nostro paese, teniamo pulite le nostre città, i nostri monumenti, ed aree monumentali e siamo orgogliosi di essere italiani. Perfetto. Zuttrichel, lei è di origine tedesca. Cosa pensa dei turisti stranieri che in Italia non rispettano le regole? Perché quando noi andiamo fuori siamo sempre abbastanza attenti, un po' come Totò e Peppino che pensavano di... Penso che sia drammatico e penso che bisogna essere appunto rigidi e fa capire che non ci si può comportare così. Abbiamo avuto qualche anno fa un turista che con un motorino è entrato nel sito, non sulle strade antiche come qualcuno ha pensato, ma nell'aria fuori le mura. Ma ovviamente è stato denunciato, è stato un australiano che ha pensato di fare una bravata però noi dobbiamo rispondere e dire guarda qui non si tratta di uno scherzo ma questo sono cose che vanno anche denunciate. Fabrizio, tu hai scritto e ho la vaga sensazione che continuerai a scrivere di queste cose come ne veniamo fuori? Educazione civica, sanzioni, informazione? Beh, ci sono tanti fronti e molti li hanno elencati il direttore di Pompeio e Francesco Rutelli però poi ci sono i romani e i romani non si devono rassegnare perché Roma è innanzitutto la loro città, il Colosseo è il simbolo di questa città e sono i romani che per primi devono combattere tutti i giorni abusivismo, sporcizia, impegnarsi loro per primi. Questo gli darà la forza per poi giudicare severamente chi governa questa città. Certo, non sarà facile perché a volte anche i romani, noi romani dobbiamo fare un piccolo esame di coscienza. Infatti l'appello era ai romani ad essere i primi, i primi a controllare la città e spesso le doppie file, le triple file, le quadruple file e spesso acquistare la bottiglietta d'acqua dall'abusivo significa alimentare una città fuori dalle regole. Turismo ed educazione civica, questi dovrebbero essere i binari su cui muoversi. Grazie ai nostri ospiti, Francesco Rutelli, il direttore Zug Triegel, buon lavoro e complimenti per il Parco archeologico di Pompei, per come viene gestito, e alla penna e alla parola inimitabile di Fabrizio Roncone del Corriere della Sera. Grazie, è stato veramente un privilegio averti qui con noi.